Ecco le immagini sono queste e vi invito a scrivere qualcosa in chat rispetto a qualche ricordo che volete condividere. Tiene già uno Irene. Sai che non vedo la chat? Anzi due, leggo? Preferisci guardarla tu? La vedi Irene? Non ti sentiamo più Irene. Adesso mi sentite? Adesso sì, adesso sì. Ok, allora devo stare un po' più vicina. No, se mi fai il favore di leggerla tu perché io non riesco in questo momento a vederla. Allora, la chat è di Chiara Baroni e dice dalla nonna in campagna con le margherite facevo collane e braccialetti. Una. Ce n'è un'altra che riprende il discorso delle coroncine di margherite da Elena e dice le coroncine di margherite o gli indiani con le penne e le gonnelline di foglie di castanio. I gattini del vicino della nonna nella stalla. Stanno arrivando delle altre, adesso vado giù. Te le leggo così? Sì, grazie perché non so per quale motivo. Ah, forse devo andare in altro. Ok, leggi pure. Grazie. Fiori, la pappa per le bambole, le collane di margherite, l'abbraccio dell'albero che amavo scalare ramo dopo ramo. Poi aspetta che vedo piccolo, adesso vado in grande così le leggo anch'io meglio. Quando ero piccolo avevo anche io due paperelle gialle che facevano anche il bagno nella vasca da bagno. L'avventura al di là del muro per arrampicarsi sul fico. L'acqua di San Giovanni, l'orto e il collaio di Ziodino. L'escursione a rifugio del farnio con i cugini e lo zio botanico. Dal nonno in campagna a raccogliere le uova nel collaio, c'era un sacco. Mio nonno aveva un piccolo allevamento ad uso familiare ed io osservavo, nutrivo e carezzavo cucini e conigli. Suonavamo con i fili d'erba, i bambini che si arrampicavano sugli alberi. Io ho una fotografia identica con io e i miei cugini che saliamo sugli alberi da bambini. Quando ero ragazza ho vissuto tante esperienze nella natura con gli scout, immersione nella natura. Prendevo sempre i pulcini tra le mani quando andavo con la nonna nel collaio. Era un evento la nascita dei pulcini scaldati dalla luce rossa nella stalla dei nonni. Arrampicarsi sugli alberi e giocare a Tarzan. L'altalena con le alliane ci giocavo da bambini in campagna, ora in quella campagna ci vivo. Da bambini mi regalarono un pulcino tutto nero, visse poco ma lo ricordo ancora. La papa per i bambolotti con i fiori, erba e piante. Dalla nonna la morbidezza dei pulcini ed arrampicata sugli alberi da frutta. Ricordo il pollaio dei nonni e la nascita dei pulcini. Con gli amici giocavamo sempre nel bosco a costruire capanne e ad arrampicarsi sugli alberi. Direi che per il momento sono queste. Irene, non sentiamo più. Allora, adesso mi sentite? Adesso sì. Ok, devo stare proprio a piccolata. Bene, quindi abbiamo tutti questi ricordi che ci collegano in qualche modo alla natura, no? Eravamo molto più liberi di quanto lo siano i nostri bambini. Nei vostri racconti non ci sono quasi mai i genitori, c'è qualche nonno, ci sono tanti amici, magari anche di età diverse. E quindi diciamo che quello che i vostri racconti restituiscono è un'infanzia in cui tutti noi eravamo più liberi, che riuscivamo, diciamo, a sfuggire allo sguardo degli adulti. Un'infanzia in cui potevamo avere del tempo libero, dove il nostro tempo non era tutto programmato in tutta quella serie di esperienze, di attività che probabilmente saranno importanti per la vita dei nostri bambini nel futuro, ma che non lasciano del tempo libero, del tempo vuoto, in cui loro possano organizzarsi, giocare, incontrare, l'avventura, arrampicarsi sugli albiere, fare tutte quelle cose straordinarie che sempre più esperti, come avete visto, ci ricordano essere fondamentali per lo sviluppo non solo fisico, ma anche mentale dei bambini. E dunque quello che registriamo è un progressivo allontanamento dalla natura. Ecco, diciamo progressivo perché, pensate, già Maria Montessori nel 1909 così scriveva, Nel nostro tempo e nell'ambiente civile delle nostre società, i bambini vivono molto lontani dalla natura ed hanno poche occasioni di entrare in intimo contatto con essa o di averne una diretta esperienza. Ma ci sono ancora troppi pregiudizi su tale argomento perché tutti ci siamo fatti volontariamente prigionieri e abbiamo finito con l'amare la nostra prigione e trasmetterla ai nostri figlioli. La natura, in verità, fa paura alla maggior parte della gente, si temono l'aria e il sole come nemici mortali, si teme la brina notturna come un serpente nascosto tra la vegetazione, si teme la pioggia quasi quanto l'incendio. Ecco dunque che è chiaro che diventa importantissimo pensare che questa mancanza di natura è qualcosa che influisce direttamente nella vita dei nostri bambini e come era un bisogno molto forte per noi lo è tuttora anche per loro perché tutti noi nasciamo geneticamente uguali alle generazioni che ci hanno preceduto e il gioco spontaneo, libero, è un'attività, un'esperienza coltissima, importante, che serve proprio, che ci aiuta ad imparare, anche un po' ad autoapprendere. Quindi quel fuori, quel fuori di cui si parla tanto, è davvero qualcosa di straordinario. Uscire con i bambini, con gli studenti, con gli alunni non significa solo aumentare le occasioni di incontrare la natura, ma significa proprio aumentare le occasioni in cui i bambini entrano in contatto con contesti che sono importantissimi per i loro apprendimenti e allora proviamo a pensare a come stare in natura quando siamo a scuola, come può essere una scuola natura, quali esperienze si possono promuovere dentro una scuola e fuori da una scuola in cui il dentro e il fuori dialogano in un continuo intreccio, in cui il fuori e il dentro sono un unico contesto educativo. Ancora qua chiedo la vostra partecipazione, vi farò vedere delle immagini e per ogni immagine vi chiedo una parola chiave, un piccolo commento. Nel scegliere queste immagini ho pensato di non escludere da questa carrellata anche i ragazzini più grandi, quindi i bambini della scuola primaria, ma anche i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, perché mi piace l'idea di pensare proprio a una scuola in continuità, quindi dal nido fino al liceo e anche oltre. Questa è una diapositiva che potrei titolare come strumenti per la didattica all'aperto, probabilmente quello di destra è più facile da interpretare, è un lombricario, si vedono in trasparenza i lombrichi che già iniziano a scavare e a scendere, quello di destra invece è un ombrello, per cui ma chissà perché è uno strumento, è uno strumento perché diciamo che mima uno strumento molto più scientifico e questi bambini stanno cercando di monitorare gli insetti che vivono su questo albero con la tecnica del frappage, è una tecnica che vede diciamo gli entomologi intenti a catturare gli insetti con un bastone si scuote abbastanza dolcemente ecco il ramo, gli insetti fingendosi morti, questo è un meccanismo che hanno, quello della tanatosi che è importante, è un meccanismo di difesa perché in questo modo sfuggono al catturatore diciamo così si fanno cadere e quindi entrano nell'ombrello e dopodiché i bambini iniziano ad osservarli e a cercare di attribuire un nome. Qui invece i ragazzi sono impegnati in vere e proprie misurazioni del giardino scolastico per un'attività di cartografia, ma anche nello stesso tempo osservano questo prato selvaggio, un prato che è sfuggito grazie al nastro segnalatore, alle squadre di giardinieri e che quindi serve proprio per fare un transetto e misurare la biodiversità di questo prato. Grazie. 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 Irene la vedi le chat? Sì, pensavo di farle andare e poi magari ritorniamo sulle immagini. Ok, lascio a te questa parte un attimino più, così le vedi tu insomma. Se qualcuno vuole prendere la parola, con molto piacere, altrimenti andiamo a leggere un po' le vostre le vostre parole. Ecco qua, abbiamo pace, libertà, osservazione diretta, relax, caccia di girini, ricerca, ricerca ancora, pace, curiosità, sollievo, osservazione, esperienza, sensazione di pace e benessere, con i miei amici, alla scoperta del mondo, impegno, amici alberi, collaborazione, essere parte, scoperta, esperienza, condividere, condivisione, collaborazione, creatività, espressione artistica, meraviglia, mini mondi, avventura, terra per scoprire noi stessi, esplorazione, sperimentazione, equilibrio, consapevolezza, prova di coraggio. Tutti temi molto, molto importanti e molto interessanti. Proviamo a riguardare le immagini. Ecco qui, ad esempio, i numeri nella natura. Quindi uscendo in natura si può fare matematica. Ecco, questa è una cosa, anzi la natura, se la osserviamo, ci richiama continuamente ai numeri, anche perché a ben guardare ci sono tante cose che si possono contare e viene proprio quasi spontaneo farlo. Ad esempio le zampe degli animali, no? Quattro, quelle dei mammiferi, guardate questo piccolo riccio. Sei sempre quelle degli insetti, otto quelle dei ragni. Giustamente avete scritto equilibrio, ma anche mi viene in mente una grande capacità nel mimare il metodo scientifico di apprendimento, quindi il provare, il riprovare, a cercare l'equilibrio, a mettere sempre qualcosina in più. Questi bambini, mossi da quella che voi avete descritto essere una grandissima curiosità, intraprendono sempre delle ricerche, sono sempre molto molto attivi. E quindi riescono spesso in modo autonomo o aiutati e sostenuti dagli insegnanti ad arrivare a scoprire anche, no? Dei meccanismi, dei fenomeni, delle cose della natura. E queste scoperte per loro sono davvero straordinarie. La soddisfazione che hanno nello scoprirle li porta sempre a, diciamo, ad intraprendere nuove osservazioni e nuove ricerche. E il metodo che loro applicano è sorprendentemente simile proprio al metodo scientifico di indagine. Quindi fanno delle ipotesi e poi fanno tante tante prove e continuano a sperimentare fin tanto che riescono a verificare i loro pensieri e hanno una motivazione sempre davvero molto straordinaria, proprio come quella degli scienziati, perché hanno sempre questa grandissima curiosità. Il movimento, ecco, il movimento è un altro, diciamo, elemento importantissimo per gli apprendimenti, per lo stare bene, no? E quindi ho fatto qua un'abbinata, un giardino di una scuola, con invece un luogo più naturale, che può essere un parco. E quindi vediamo che i bambini, questo nella nostra esperienza ci capita spesso di notarlo, soprattutto se escono poco, i primi momenti, anche le prime giornate, le trascorrono proprio a correre, ad arrampicarsi, a scalare, a saltare, quasi proprio avessero un'urgenza, un'impellenza di muoversi. Quindi muoversi anche, diciamo, su superfici non sempre agevoli, come possono incontrare invece all'interno, no? E quindi notiamo anche che ci sono sempre più bambini che fanno fatica a muoversi, proprio perché inciampano, in natura non ci sono delle strade fatte e spianate. I bambini devono proprio fare sempre, muoversi con grande attenzione e cautela. E mano a mano che vivono delle esperienze all'aria aperta, si impratichiscono, riescono ad essere sempre, sempre più abili. E la natura, ecco, questa striscia di erbe, di muschi nell'asfalto, è proprio la dimostrazione che la natura c'è proprio dappertutto. Quindi molti di voi vivono e lavorano in luoghi davvero ricchi da un punto di vista naturalistico e quindi probabilmente non incontrano invece le limitazioni che ci raccontano molte insegnanti invece che vivono in città e che hanno dei giardini scolastici o anche dei parchetti vicino a scuola molto semplificati, ma la natura davvero ci sorprende sempre. Anche quella più semplificata riesce talvolta a manifestarsi e a regalarci davvero delle sorprese. E poi è straordinaria la capacità di osservazione che hanno i bambini, cose che noi non vediamo, che sono anche proprio sotto i nostri occhi, per loro sono straordinarie. Quindi proprio l'invito è quello di farsi incantare, contagiare dalla curiosità dei bambini, dalla loro capacità di scoprire e di stanare e di osservare forme inedite della natura talvolta nascoste e per questo anche ancora più affascinanti. Questa bambina sta disegnando davvero un albero. Qualcuno di voi diceva alberi amici, alberi meravigliosi. Vi confesso che nella mia vita professionale ho cambiato un po' il mio modo di lavorare al cospetto di questi straordinari amici. Mentre una volta credevo che non fosse importante dargli un nome, ma piuttosto osservarli, credo invece in un momento in cui diamo un nome ad ogni cosa, anche all'animaletto più piccolo che ci ritroviamo in casa, ed è questa una cosa buona e interessante. Ecco, io credo che dare un nome agli alberi sia qualcosa di davvero fondamentale, riconoscere un'identità, quindi non alberi, ma carpini, querce, sambuchi, nel caso degli arbusti, faggi, frassini, aceri, riconoscerli e chiamarli per nome. Questi alberi possono diventare dei punti di riferimento, in giardino c'è l'olmo, ecco, andiamo a trovarci, troviamo sotto l'olmo. Dove hai trovato questo oggetto? Ah, era vicino al sambuco, dove ti è capitato di incontrare questo animaletto? Questo animaletto era sul frassino, sulla foglia del frassino. Ecco, io credo che dare un nome agli alberi, alle cose, sia importante proprio per iniziare a rispettare e ad avere consapevolezza. Nel caso degli alberi, i bambini spesso li riconoscono solo nella loro funzione di darci l'ossigeno, ma le funzioni degli alberi sono straordinarie e molte più ampie. Basti pensare che gli alberi c'erano molto, molto prima di noi e che tutto il mondo che ci circonda non ci sarebbe se non ci fossero stati loro. E quindi davvero gli alberi sono grandissimi amici. Sedersi, leggere un libro sotto l'ombra di un albero, disegnarli, imparare a conoscerli è, credo, imparare a conoscere anche un pezzetto di noi. Questi bambini giocano in un cortile, diciamo, molto, molto povero. Vedete che però è molto, riporta dei segni di una grandissima frequentazione. Ho scelto questa foto perché credo che sia importante parlare del gioco. Allora mi capitava, quando ero piccola, di sentire oggi questa mattina lavoriamo e poi oggi pomeriggio andiamo in cortile a giocare. Ecco, per fortuna queste parole si sentono sempre meno spesso. Lavorare per giocare per i bambini è davvero un'esperienza coltissima. Rubo questo aggettivo a Laura Malavasi che ne parla sempre in questo modo. E giocare è per i bambini fondamentale. Maria Montessori diceva che l'infanzia del bambino è così lunga rispetto a quella degli animali proprio perché sono tantissime le cose che un bambino deve imparare e le impara giocando. E allora se anche pensiamo ai mammiferi, quelli più astuti, quelli che in qualche modo devono ragionare di più e che ad esempio pensiamo ai predatori, no? Abbiamo in mente i felini subito. Ecco, abbiamo sotto gli occhi, sotto i nostri occhi i gatti che sono degli animali che giocano moltissimo perché giocando, facendo gli agguati, simulandoli, loro imparano proprio a cavarsela quello che sarà le strategie che dovranno adottare nel mondo. In questa invece immagine mi viene da dire che i bambini qui stanno esplorando, anche se è difficile fare una distinzione fra gioco, esplorazione, perché il giocare e l'esplorare si alimentano a vicenda. Pensiamo ad un bastone, i bambini lo raccolgono, iniziano a giocarci, fanno le spadacciate, fanno tante cose, i mestoli. Vabbè, il bastone è il gioco universalmente più noto e amato dai bambini di tutto il mondo. Nel momento in cui dopo aver fatto una spadacciata il bastone si rompe, ecco che il bambino difficilmente lo lascia perché comunque è il suo bastone e quindi cerca un'altra occupazione che diventa magari a quel punto uno strumento per scavare. Ma ecco che scavando il bambino trova qualcosa, quindi in quel momento il bambino esplora. Cosa trova? Trova una penna, trova una piuma, una penna di un uccello e quindi poi dai amici andiamo, andiamo di nuovo ad esplorare. Quindi gioco ed esplorazione sono davvero delle esperienze che i bambini praticano quasi in modo circolare. Di questo ne avevamo già parlato, anche di questo. Ecco, riposo, relax. Questa immagine mi permette di riflettere su un punto importante. Quando andiamo fuori, quando decidiamo di stare fuori, di utilizzare il fuori in chiave educativa, dobbiamo immaginare anche a cambiare le nostre pratiche e quindi dormire all'aria aperta come stanno facendo questi due bambini, magari dopo essersi rotolati nell'erba, si vede che c'è ancora qualche foglia che è rimasta sui capelli del bambino di destra, ecco che diventa un momento importante. Quindi proprio cambiare le pratiche, fare fuori quello che si fa dentro, ma anche fare dentro quello che si potrebbe fare fuori e quindi giocare, intrecciare il dentro e il fuori. Ritorniamo. Ecco qua. Parlo solo io. Questa diapositiva, anche questa immagine mi piaceva, l'idea dell'avventurarsi, dell'educazione all'avventura. Qui questi sono dei ragazzi più grandi, sono dei ragazzi delle medie. E diciamo che in questo ordine scolastico è ancora più difficile forse uscire. Tutti voi immagino avrete, vi scontrerete ogni giorno con molte difficoltà, con le compresenze, gli orari, tutti i vari dispositivi per garantire la sicurezza in questo momento. Ma io credo che dobbiamo sempre partire dal bisogno, dai bisogni dei bambini e dei ragazzi e riflettendo sui loro bisogni, che erano poi anche i nostri, che sono tuttora i nostri, ecco io credo che delle soluzioni per uscire le troviamo. Ecco, perché io credo che noi, prima ancora di essere insegnanti, prima ancora di essere dei naturalisti, siamo degli educatori. E quindi è importante proprio mettersi un po' in ascolto e in osservazione dei ragazzi. E quando osserviamo e ci prendiamo cura di loro, ecco che emerge questo grandissimo bisogno proprio di riappropriarsi degli spazi della natura, di stare fuori, di stare in contesti che non siano sempre necessariamente organizzati dall'uomo. Ecco, allora qualcuno vuole fare un commento o forse, Claudia, mi puoi aiutare? Ci sono dei commenti in chat? C'è un commento in chat. Nell'ampia e più strutturata area cortiliva, i nostri bambini sperimentano giochi ed è bellissimo vederli correre, scavare, cercare tesori. Scuola primaria, Lammoponio. Anche nei cortili scolastici si possono fare davvero degli incontri con la natura molto interessanti. Poi parleremo proprio anche degli spazi. A questo punto invece la faccenda si complica un po', perché io sono in grande difficoltà con la mia chat, che non so perché oggi non riesco a vederla, quindi io, Claudia, chiedo davvero la tua collaborazione. Ora io vi farò vedere... Scusa, Elena, possiamo anche chiedere di attivare il microfono e di intervenire? Oh, certamente, se... Scusa, mi chiediamo con la mia chat. Ah, con grande piacere. Io nel frattempo forse sono riuscita a recuperarla, non so perché oggi ho cambiato computer e mi sta un po' facendo arrabbiare, però benissimo, spazio di parola, scritta o proprio di parola a parola che vi ascoltiamo volentieri e il gioco che sto per proporvi, un gioco comunque riflessivo, è quello di annotare subito, mentre vi faccio vedere l'immagine, se secondo voi si tratta di una risorsa o di una criticità. ecco che parto. Eccoci qua. Non vedo commenti. Tu, Claudia, li vedi? Nessun commento. Eccolo, risorsa, risorsa, stanno arrivando. Aspetta, aspetta. Risorsa, 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 risorsa. Risorsa assolutamente. Risorsa, anche se le mamme non sarebbero d'accordo. Risorsa direi che è quella che va per la maggiore, anzi in assoluto, l'unica risposta presente, direi. E' una criticità, ok. Bastoni. Vediamo sui bastoni, come la pensate. Ne abbiamo già un po' parlato. Allora, direi che partiamo da risorsa, risorsa, ma anche criticità, perché si potrebbero, si potrebbero, aspettate un attimo, perché si potrebbero scivolare. Risorsa, risorsa, risorsa da gestire. Entrambe, da imparare a gestire, da gestire, risorsa da osservare, risorsa e criticità, risorsa ma con attenzione. Ah, poi c'è una risorsa pericolosa, che bellissima. Esatto. Una risorsa pericolosa. Risorsa critica. Ed occasione per momento educativo. Allora, ero molto indecisa se mettere questa immagine, perché ormai del bastone, insomma, se ne parla veramente tanto, è diventato un po' un argomento, un cult. Però, davvero, i bambini, quando escono e trovano dei bastoni, è la prima cosa che fanno, li vanno a prendere. Credo che dei bambini che sono abituati ad utilizzare questo strumento, lo utilizzano in modo proprio. e quindi diventa davvero una risorsa e sono molto d'accordo con chi dice risorsa. Io vi riporto un po' la mia esperienza di educatrice ambientale che d'estate è occupata nei campi estivi. Ecco, lì è il momento in cui io sono più in difficoltà con i bastoni, perché arrivano moltissimi bambini con l'idea di fare una settimana di immersione liberi nella natura e quindi subito prendono i bastoni. Ma si riesce a capire quando un bambino è abituato a stare in natura e a viverla quotidianamente, quando invece un bambino è lì come per fare un'esperienza almeno inizialmente occasionale. Ecco, lì diventa il bastone, può diventare una criticità, perché non c'è l'abitudine ad utilizzarlo. Io faccio spesso questo esempio, no? Io immagino che non possiamo immaginare un oggetto più pericoloso di una forchetta nelle mani dei bambini, soprattutto dei bambini piccoli, però noi culturalmente utilizziamo la forchetta come strumento per mangiare e quindi diciamo che fortunatamente non ci sono grandissimi incidenti. Ecco, io credo che con il bastone e con tantissimi altri strumenti naturali sia proprio questo il problema. Quindi una risorsa da regolamentare, mi viene da dire, qualcuno dice così, almeno inizialmente. Ok, quindi bastoni, adesso ne proponiamo un'altra. Ecco, questa aula all'aperto è una risorsa o una criticità, secondo voi? Ma dov'è? Scusate, la vedete? Sento qualcuno che parla in sottofondo, forse ha il microfono acceso. Io ho perso la chat. risorsa ed occasione per momento educativo, risorsa, no scusami, risorsa da regolamentare, aspetta un attimo che mi sono... Risorsa, 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 risorsissima, risorsissima di nuovo, magari averla, risorsa, risorsa che consente l'interazione tra pari e con l'insegnante. risorsa, 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 avercela, bella ma troppo strutturata, secondo me. Un sogno, toglierei la lavagna. Punto di partenza e di arrivo. Punto di partenza e di arrivo. Interessante, perché nel mezzo che cosa c'è? L'ho messa apposta questa immagine per riflettere perché di fatto qui siamo in Svezia, siamo in un bosco e c'è questa specie di aula all'aperto, poi ci sono anche ovviamente tutte le aule dentro. Però non c'è solo quest'aula, c'è un grandissimo bosco che i bambini frequentano abitualmente. È interessante questa riflessione, punto di partenza e di arrivo perché fa pensare che nel mezzo ci sia qualcosa. E punto di partenza perché ecco Elisa, Cecilia ci salutano, grazie a voi di essere state con noi. Sì, è un punto di partenza perché magari può essere interessante salutarsi, mettersi d'accordo su quello che si decide di fare nella giornata. Può essere un interessante punto di arrivo per magari restituire un po' o riflettere su qualcosa che è capitato. Però l'esperienza diretta della natura, che è diciamo l'elemento importante dello stare fuori, è un'esperienza che non è che possiamo fare stando seduti fuori. È un'esperienza che coinvolge tutti i nostri sensi, coinvolge il nostro corpo nel movimento. E pensiamo a tutte quelle immagini che abbiamo visto all'inizio di questo nostro incontro, che erano delle immagini che ci volevano far riflettere su cosa significa fare scuola all'aperto fuori. Quindi indagare, ricercare, esplorare, giocare, tutte quelle cose belle che abbiamo detto. Questa è un'aula proprio, un'aula all'aperto, quindi sicuramente un sogno, anche se qualcuno suggerisce di togliere la lavagna. E' troppo strutturata, ma può essere un momento molto, può favorire dei momenti molto preziosi, che sono quelli proprio anche dell'elaborazione, no? Perché stare fuori, probabilmente, nella nostra esperienza, non favorisce solamente l'esplorare, o comunque la parte di confronto, di rielaborazione, è una parte molto importante nei vissuti dei bambini e degli adulti, nelle relazioni che si creano. E quindi questo contesto può favorire proprio il coinvolgimento da parte dei bambini e il trasferimento delle proprie emozioni, delle proprie sensazioni, delle riflessioni. E qualcuno la renderebbe obbligatoria in tutte le scuole. Andiamo avanti. Questi, questi non so se li conoscete, sono dei bug hotel, degli hotel per insetti, api solitarie, piccole forficule, i tagliaforbici, tipule, i zanzaroni degli orti, che non sono delle zanzare, lucertole. Molti animaletti si infilano qua dentro per trascorrere l'inverno, ma soprattutto le api solitarie, che sono delle api straordinarie, non sono organizzate in una struttura sociale come l'ape domestica. Diciamo che amano vivere in singole casette vicine, vicine come i nostri condomini, ecco, potremmo dire. Depongono le uova dentro le cannucce, un uovo alla volta, fra un uovo all'altro costruiscono delle piccole pareti con i materiali più disparati, dalle foglie al fango. E poi vicino all'uovo depongono un panino di polline, in modo tale che quando dall'uovo uscirà la larva, la larva potrà nutrirsi, trascorrerà l'inverno là dentro, e poi in primavera, uno dopo l'altro, le piccole apine solitarie sfonderanno le pareti e usciranno fuori e andranno a impollinare tutti quei fiori che sono precoci, che fioriscono prima e che quindi, diciamo, spesso le api non riescono a bottinare, a impollinare. Quindi sono importantissime e preziosissime per la biodiversità e non sono aggressive come le api che devono difendere il miele, che è la loro scorta, la loro riserva di cibo e quindi questa aggressività è legata proprio alla protezione della regina e della loro fonte di cibo, cosa che invece le api solitarie non sono tenute a fare. Quindi ecco che moltissimi architetti ne hanno costruiti di meravigliosi nei giardini botanici e noi ne costruiamo così molto artigianalmente nei giardini delle scuole. Sono una risorsa o una criticità? Ah, scusate. Irene, non so se vedi, ci sono già tante risposte in merito. E puoi leggere che io faccio sempre fatica a provare. Allora, tante risorse ci sono. Poi c'è una cosa molto interessante. Il bambino e l'animale in interazione. Bellissimi. Risorsa da usare con cautela. Stupendi. Grandissima risorsa. Super risorsa. E anche dove si acquistano. Allora, è bello farli, magari anche chiedendo un aiuto ai nonni. Vedete che sono dei ceppi, tutti forati, con fori di circonferenza diversa, proprio perché ogni ape solitaria ha un po' la sua misura. E sono delle casette e si devono riempire con i materiali più disparati. Quindi è davvero molto bello anche farlo con i bambini. Probabilmente se ne sono già anche assemblati, però io consiglio proprio di farli. Magari anche con un laboratorio di falegnameria o con qualche genitore o nonno è aiutante. Perché è importante arricchire i giardini da un punto di vista della biodiversità, i giardini scolastici, ma anche gli orti, i giardini pubblici. Perché maggiori saranno le specie di animali e di piante che vivono intorno a noi, maggiori saranno le occasioni di apprendimento dei bambini. Proprio perché, come dicevate nella chat, la cosa davvero importante è proprio il concetto di relazione in natura. E quindi davvero è bello poter frequentare dei luoghi ricchi e complessi. Perché dietro a questa complessità non si nasconde proprio l'idea di difficoltà, ma proprio di relazione. Più cose ci sono, maggiori saranno le relazioni che i bambini potranno scoprire e noi con loro. Allora pensiamo ad un bambino molto piccolo che scopre su un tronco una stradina luccicante. E questa stradina luccicante all'inizio non saprà che cos'è, potrà fare delle ipotesi. Magari è la traccia di una fata o di un folletto o qualcosa che ha lasciato un personaggio fantastico. Poi però a un certo punto vedrà una chiocciola o una lumaca che scivolano sulla corteccia e lasciano questa stradina. A quel punto sarà una scoperta. Sarà una scoperta importante come la scoperta di vedere l'insalata con dei buchetti un po' quadrangolari. E quindi anche lì se il bambino avrà la possibilità di sperimentare, di osservare una chiocciola o una lumaca che fa merendo o colazione sulla foglia di insalata nell'orto, ecco che anche lì è un'altra relazione. Di relazione in relazione, aumentando l'età del bambino, il bambino riuscirà ad apprendere, a mettere in relazione sempre cose un pochino più complesse. Quindi approcciandosi alla complessità della natura in modo differente, fino ad affrontare quando sarà grande, frequenterà le scuole medio, le scuole superiori, temi, quelli molto più importanti, più grandi, più importanti, più grandi come i cambiamenti climatici, l'effetto serra. Ecco che allora quei temi poggeranno su una conoscenza che il bambino avrà costruito direttamente vivendo l'esperienza diretta. E quindi anche il senso di appartenenza, la cura, il rispetto che il bambino e l'adulto avrà nei confronti del nostro paese, saranno qualcosa di molto molto profondo. Perché vivendo in relazione, scoprendo le relazioni, vivendo la natura quotidianamente, noi capiamo che facciamo parte della natura, che siamo proprio parte e che abbiamo bisogno degli altri esseri viventi, proprio per riuscire a vivere. Un po' il discorso che facevamo prima con gli alberi, no? Non sono qualcosa di contesto, non sono semplicemente delle strutture meravigliose, belle, che ci fanno ombre, ci danno l'ossigeno. Sono, dicevamo, una parte di noi, cioè una parte di questo sistema complesso in cui noi viviamo insieme agli altri. Infatti, Irene, scusa se ti disturbo, nella chat c'è anche chi ha scritto biodiversità, in effetti. Direi che è proprio la parola... Non ti sentiamo? È proprio la parola giusta, biodiversità. Assolutamente, appropriata. Ti ricordi che sono le 18.22, quindi abbiamo ancora, diciamo, 10-15 minuti? E della pioggia e della neve? Cosa diciamo? Sono delle opportunità o delle criticità? Arrivano dei commenti? Allora... Opportunità sensoriali ed emozionali. Opportunità, opportunità, meraviglie della trasformazione, meraviglia della trasformazione. Ok. Diciamo che l'opportunità di affrontare una delle varie occasioni in cui i bambini possono sperimentare strategia di fronte all'imprevisto. una pioggia improvvisa, un temporale. La natura non è sempre solo tutta bella, no, la pioggia e la neve lo sono, però mi piace quest'idea dell'imprevisto che è venuta fuori della chat, perché in effetti è vero, la natura è imprevedibile ed è difficile. E quindi l'idea che anche i bambini e noi con loro siamo chiamati a saper, a dover affrontare delle difficoltà, a trovare delle soluzioni, a farci venire delle idee per... Nel caso della pioggia e della neve, io direi davvero che siamo nell'ambito, nel campo meraviglioso delle trasformazioni e l'acqua. L'acqua è un elemento fondamentale nella nostra vita, nella vita del nostro pianeta e quindi credo che sia davvero importante che noi ne facciamo esperienza diretta fin da piccoli. I bambini non hanno mai problemi per uscire quando piove o quando c'è la neve. Siamo piuttosto noi adulti, un po' infreddoliti o poco equipaggiati ad avere magari più difficoltà. Adesso, vabbè, magari scorriamo veloci. Questo è uno stagno e qui, sì, c'è il rischio che qualche bambino possa finirci dentro. A me è capitato e questa era l'immagine di un'altalena, qui ci sono dei sassi, questa è una cucina di fango. E quindi diciamo che vi vorrei far vedere questo video qui, prima di salutarci. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Avremo sicuramente modo comunque di parlarne nel prossimo incontro in modo ampio perché il prossimo incontro è proprio dedicato a incontrare una docente che anche lei da anni porta avanti queste esperienze. Quindi ci potremo confrontare anche con Emanuela, con la docente Valdini e con chi vorrà intervenire su questi temi. Grazie. Qualcuno vuole intervenire? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Scusa Claudia, volevo chiedere a Emanuela se anche quest'anno sono riuscite, lei e le sue colleghe, a portare avanti il progetto come negli anni scorsi o se hanno incontrato più difficoltà. Non so se Emanuela è ancora tra noi, se ci sente. Avremo occasione di chiederglielo. Perché la vedo. Eccomi qua. Mi sentite? Allora, noi sì, mi sentite? Sì, sì. Perfetto. Noi quest'anno abbiamo portato avanti il nostro progetto più o meno come lo scorso anno. L'unica cosa che ci è mancata è il trasporto del pulmino perché proprio per questioni di assembramento e quindi evitare appunto gli assembramenti dobbiamo fermarci solo nei luoghi attorno alla nostra scuola. Però gli spazi non ci mancano perché quotidianamente andiamo a Palazzo Ducale, andiamo alla Torricella, abbiamo tanti luoghi anche vicino a noi e quindi tutto l'anno da settembre, quando abbiamo cominciato, fino a questa mattina non abbiamo mai smesso di uscire. E una cosa alla quale proprio tengo, ormai abbiamo i registri che ci dicono che i bambini si ammallano veramente meno e fino ad ora fortunatamente siamo state una delle uniche scuole dell'infanzia che non ha mai chiuso una sezione causa un caso di Covid positivo. Quindi questo ci dimostra proprio, è tangibile il fatto che quando i bambini stanno fuori si sta bene sotto tutti i punti di vista. Tanto che tu parlavi, ho cercato questa slide perché immagino che voi sarete super equipaggiati perché naturalmente stare fuori è importante, no? Allora conosciamo tutti la frase, non esiste cattivo e brutto tempo, ma esiste solamente un cattivo equipaggiamento. Esatto, bravissima. Che è un po' il fatto degli scout di Baden Power e quindi sì, è importante proprio equipaggiarsi, quindi i bambini piccoli ormai si trovano le tute da fango, come le chiamiamo noi, che sono delle tute straordinarie. Perché è così, sappiamo che i bambini entrano dentro il fango, non è come noi che lo pestiamo solo, loro si siedono e qui è importante che abbiano dei pantaloni e non solo delle giacche, gli stivaletti, tutti belli sporchi come questi, che vuol dire che sono usati. Mi sembra proprio la mia scuola, uguale, identica. Ma anche gli zaini. Mi trovo perfettamente. Anche gli zaini per una scuola primaria, ma anche per le scuole dell'infanzia, uno zainetto, no? Perché il tempo cambia, è imprevedibile, come dicevamo prima, e quindi è importante che ognuno, proprio per sviluppare anche l'autonomia, abbia la sua giaccavento, i suoi pantaloni da fango, il suo pasto, l'acqua, tutto con sé. Questo l'abbiamo già detto, era importante riflettere anche sul ruolo dell'adulto, su quanto l'adulto che esce attraverso percorsi formativi e anche e soprattutto attraverso la condivisione dell'esperienza diretta con i propri bambini, ecco che è un adulto che esce dalla sua zona di comfort e che inizia anche è ad avere delle posture strane, quindi sdraiato per terra, mettendosi all'altezza dei bambini, sdraiato a fotografare il cielo, come ha fatto questo insegnante mentre stavano lavorando, a guardare il cielo e le nuvole e le stelle, perché il sole sappiamo che è una stella, è una stella che vediamo di giorno e quindi anche se la natura non è poi così generosa, vicino a noi abbiamo sempre il cielo, abbiamo il sole, abbiamo le ombre, abbiamo le nuvole, per cui si può davvero riuscire a fare scuola fuori anche alzando gli occhi al cielo e adulti che giocano ed entrano in relazione con i loro bambini, si divertono, li sostengono nelle ricerche ma anche nei giochi, sanno quando entrare nelle dinamiche dei bambini, quando osservarli, quando osservarli, quando invece magari farsi da parte, mettersi fra parentesi e sì, quindi davvero importante nell'uscire fuori anche ripensare al ruolo, al ruolo di noi adulti, cosa facciamo con i bambini fuori, come ci poniamo, è vero, è dura, soprattutto i primi tempi, ma è importante stare, stare ed entrare, mantenere la relazione educativa. Ecco, una cosa come educatrice ambientale che mi capitava soprattutto in passato e che magari i colleghi del CEAS Parco Emilia Centrale condivideranno con me, che quando si usciva in natura, un po' per le nostre conoscenze di tipo naturalistico, tante volte ci sentavamo un po' delegati nel portare avanti la relazione con i bambini. Ecco, invece, quello che sta succedendo adesso, grazie alle formazioni, grazie a un modo nuovo anche di stare fuori, più vicino a quelli che sono i bisogni dei bambini, ecco che invece la relazione passa anche attraverso l'insegnante, anche se l'insegnante non ha quelle conoscenze naturalistiche che magari abbiamo noi, ma è che non sono necessarie. E quindi davvero è importante cogliere l'occasione di scoprire la natura insieme ai bambini, anche motivando tutti i percorsi ai genitori dei bambini che difficilmente si lasceranno sfuggire l'occasione magari di migliorare un giardino scolastico e di dare una mano. Se motivati, se dentro ad un percorso di consapevolezza i genitori iniziano a cambiare il loro modo di educare i bambini, rendersi conto che l'educazione naturale all'aperto è una grandissima risorsa per i loro figli. Chiudiamo con questa slide sull'adulto che riassume un po' quelle che sono le raccomandazioni o comunque le attenzioni che dobbiamo avere nel rapporto con i bambini. Mantenere uno sguardo d'insieme per cogliere tutti gli aspetti dell'esperienza del bambino, comprenderlo e aiutarlo. Fare un lavoro di squadra con i colleghi, definendo i ruoli osservativi di collaborazione, di condivisione, di organizzazione. È un adulto mentalmente aperto, pronto ad accogliere i bisogni e necessità del bambino. Un adulto che incoraggia il gioco spontaneo, motivante, avventuroso, rischioso e aperto alla possibilità. Sostiene le ricerche dei bambini, prolunga il loro sguardo, stimola l'osservazione, incoraggia esplorazioni e sperimentazioni significative. Lascia fare. Ecco, questo è importante, soprattutto per noi che conosciamo la natura, ci dobbiamo spesso veramente chiudere la bocca, non anticipare, non fornire risposte semplici, stimolare il ragionamento, non sovrapporsi, non interrompere e non avere fretta. Io, mamma mia, quante cose. Ecco, forse questa, possiamo chiudere davvero con questa, una delle otto competenze chiave di cittadinanza europea, lo spirito d'iniziativa, fa riferimento alla capacità di risolvere problemi che si incontrano nella vita e di proporre soluzioni, valutare rischi e possibilità, agire con flessibilità, conoscere l'ambiente in cui si opera. È necessario fornire contesti ricchi e complessi da un punto di vista educativo che mettano nelle condizioni i bambini di vivere delle esperienze. Io direi, Claudia, che forse ho sforato proprio già moltissimo. Hai cercato di un quarto d'ora, ma era difficile interromperti, visto le informazioni così interessanti. Insomma, poi ho visto che la presenza era ancora bella ampia, quindi vuol dire che, insomma, l'interesse c'è. Io mi permetto di chiudere, intanto ringraziando Irene, perché direi che ci ha dato un sacco di spunti e veramente di stimoli, e purtroppo devo dare delle informazioni di servizio che in questo momento rompono un po' la magia di tutto quello che Irene ha presentato. Noi il prossimo appuntamento lo avremo il 23 di febbraio, sarà ancora un webinar, appunto, vi manderò il link e nell'occasione vi manderò anche il link all'incontro che abbiamo tenuto con, anche in quel caso, la partecipazione di Irene, che abbiamo fatto sempre con un webinar rivolto a cittadini, docenti e genitori, dei ragazzi che faranno l'esperienza, dove abbiamo coinvolto diversi soggetti, diciamo, accanto a Irene. Abbiamo avuto una psicologa, psicoterapeuta, abbiamo ospitato una pedagogista e un pediatra. Quindi abbiamo potuto così un po' ascoltare le voci di più persone. Io vi manderò il link anche a questo webinar, in modo che se volete approfondire l'argomento lo potete fare tranquillamente. Ricordo per chi non l'avesse fatto di compilare quel modulo che vi è stato richiesto per appunto partecipare alla ricerca, perché è un elemento, una parte importante del nostro percorso. E vi do anche un'ultima informazione di servizio. Visto la grande partecipazione di cui siamo molto contenti, effettivamente, abbiamo quasi, siamo quasi in 50, dovevamo chiudere semplicemente a 20, fate voi. Abbiamo pensato che le giornate che faremo in presenza le dovremo suddividere per fare piccoli gruppi. Quindi, insomma, da qui a marzo abbiamo un po' di tempo. In questo momento vi daremo informazioni, ma pensavamo di mantenere le giornate e suddividere gli orari. Eventualmente fateci una riflessione, così il 23 poi ne riparliamo e valutiamo il cosa fare, insomma. Io vi ringrazio tantissimo della partecipazione, è numerosissima, e vi aspetto per il prossimo incontro. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie, grazie a te Claudia, grazie a tutte.